...fucce, più invece cacchere, semplice e veloce, pulito, perfetto, come piace a te. Cacchere fa la differenza, uomini, vinta. Le scegate ma le troveri dentro il fumo. No, adesso ve lo dite. Perché non è normale questa cosa? No, decisamente no. No, no, no. Decisamente non è un'ordine. No. Poi quando capirai, capirai perché non è normale. No, 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 decisamente no. Oh, ragazzi, io accaccio la porta e sarà questa che deve andare a schiena. Non so cosa hai fatto in quell'acquolo? Io non lo faccio niente. E che sta riprendendo? Non solo lui sta riprendendo. Non lo faccio niente. No. Non mi capisco niente. In prima salute, questa sera, anche noi. La ragazzi ha paura. Sì, abbastanza. Anche noi. E sti cazzi. Porca troia. Si era un broccia del fumo. Ma è russiato. Il colletto bianco più sexy del piccolo schermo. No, no.